Allora, siccome i tempi stringono tantissimo oggi, nel senso che il nostro ospite deve andare via in a matter of half an hour, quindi mezz'ora e scappa. Tempus fugit. Ringraziamo di essere qui a Don, si può dire Don, Leonardo, Mauro, che oggi appunto è qui per darci la sua versione di come potrebbe essere una carriera, non solo da prete. Quindi, io non so come presentarla. Infatti il titolo era Non solo prete, infatti. Non solo prete, infatti. Quindi, io non so neanche da dove partire, perché ci sono talmente tante cose. Quindi, se lei vuole darci… Ah dai, parto io, parto io. Sì, 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 ci dia un… Allora, io ho fatto, sono di Como, ho fatto le scuole pubbliche. Liceo a Como, poi ho fatto… Sono andato a Genova e mi sono lavorato in Economia e Commercio. Lì ho fatto anche il militare e poi mi sono trasferito a Roma, perché nel frattempo avevo deciso di diventare prete e sono diventato sacerdote nell'88, ordinato da Giovanni Paolo II. Dentro di me la vocazione, come posso chiamarla, professionale ha un posto importantissimo, cioè nel senso che quando noi parliamo di vocazione, noi in genere pensiamo appunto al diventare frati, preti, suore, ma in realtà questa parola ha un'accezione molto più ampia, cioè la vocazione è, come posso dire, l'indole profonda, l'istinto, il desiderio, la rotta che una persona desidera imprimere la propria vita e che pensa anche che sia il codice con il quale leggere la propria esistenza. Questa io la chiamo vocazione professionale. Allora io ho pensato che essere prete, quindi fare le normali cose che fanno i preti, dire la messa, confessare, fare direzione spirituale, quelle cose lì, fosse assolutamente compatibile con lo scrivere, che nel mio caso si è manifestato prima, con lo scrivere dei libri. Io ho scritto, penso, ho pubblicato 12 libri, 4 romanzi, alcuni saggi e poi 3-4 libri, diciamo, di quelli di preghiera normali che uno si aspetterebbe da un preti, ma invece gli altri sono di altro genere. Per esempio l'ultimo, che mi piacerebbe che voi faceste un po' di pubblicità, si chiama Il Vangelo secondo TikTok, mannaggia, un attimo che lo prendo e così faccio vedere almeno la copertina. Questo qui è il mio libro, pubblicato un mesetto fa, Il Vangelo secondo TikTok, casa editrice edizione Terra Santa. Fa sorridere perché edizione Terra Santa, non so come mai, ci sono questi nickname molto, non so, mi fa sorridere. Tornando indietro, quindi ho pensato che questa cosa fosse non compatibile, ma un altro modo di vivere il mio sacerdozio, per cui ho cominciato a pubblicare questi libri. Quindi nel 2011 mi sono reso conto che il passaparola, che è il meccanismo classico per vendere libri, oggi come oggi è possibile soltanto attraverso il web, per cui ho fatto un blog, che è il mio blog attuale, si chiama Come Gesù, e adesso ho associato una pagina Facebook che in questo momento ha 150.000 follower e poi poco per volta sono andati aggiungendosi tutti gli altri social. A luglio scorso il social, chiamiamolo così, social TikTok, che in realtà di per sé non è un social. Niente, quindi... Ma scusi, adesso ovviamente ha buttato tutto sul fuoco, però ovviamente ci sono delle... Nel percorso mi veniva subito da fare intanto una domanda. Lei è diventato prete dopo aver fatto la laurea in economia. Giusto. Cosa l'ha spostata a dire questa laurea in economia mi serve fino a un certo punto, voglio andare a fare il prete? Andare a fare il prete è nato nel modo più classico possibile, nel senso che io... Ma io non so se voi siete credenti in Dio o non credenti, però io soggettivamente io ho pensato pregando che Dio me lo chiedesse, che Gesù Cristo mi chiedesse di fare il prete. Invece sul discorso dell'economia e commercio, in realtà... Quando ho scelto di fare l'economia e commercio, cioè dopo la maturità dello scientifico, ho fatto una scelta un po' così, forse poco riflettuta, cioè nel senso che ho fatto quella scelta soltanto perché pensavo che con quella laurea sarebbe stato più semplice guadagnarsi da vivere. Però in realtà la mia indole profonda è sempre stata quello dello scrivere. Forse avrei dovuto fare lettere, diciamo pure... Ma allora, mi sa che allora le facoltà di giornalismo ancora non esistevano, però non ho avuto chi mi ha consigliato bene, o forse io non sono stato abbastanza coraggioso, non lo so, cioè ho pensato Carmina non Dante Panem, cioè... Sì, poi cosa faccio con le lettere, vado a fare il professore del liceo, che sarebbe una bella cosa, ma... Eh vabbè, però insomma... La vedo io un po', la vedo un professore, anche uno di quelli bravi, perché di solito i classici sono sempre duri lì, no? Invece lei, non so, mi ispira fiducia. Eh va bene, e quindi è andata così, ecco, quindi... Quindi ha usato... Sono ammischiate tutte queste cose, sì. No, quindi, appunto, scusi, ha detto vado a fare sia per una questione... appunto di vocazione, di credenza, ma anche perché a lei piaceva scrivere tantissimo e quindi ha detto questa strada... Ti spiego una cosa, visto che hai detto tante volte di essere ignorante in cose di religione, ti dico una cosa che in realtà anche i cristiani in genere non sanno, cioè... Noi oggi, come oggi, noi abbiamo fatto diventare i preti un lavoro, giusto? Cioè tu immagini, infatti tu dici parroco perché tu pensi che il prete è giustamente quello che fa il parroco, il parroco è quello, è il prete che sta a capo di una parrocchia, che è l'unità, diciamo così, territoriale fondamentale della Chiesa Cattolica. Ma in realtà... per i suoi primi cristiani, per molti secoli, non era così, cioè... il prete era un cristiano come tutti gli altri che faceva il suo proprio lavoro, per esempio San Paolo faceva il costruttore di tende, il tessitore di tende, e poi svolgeva anche un ruolo all'interno della comunità cristiana. Ma San Paolo non è che è andato in giro mantenendosi facendo quel lavoro lì, capisci? Certo. San Pietro, certo, a un certo punto si è andato dal lago di Galilea, ma finché è rimasto lì faceva anche il pescatore, cioè non è che dopo la risurrezione di Gesù loro vanno tranquillamente e tornano a fare il loro lavoro che è pescare. Quindi, secondo me potrebbe... è anche pericoloso quello che è successo poi nei secoli, cioè il fatto di far diventare un prete, un funzionario, tra virgolette, che fa soltanto cose specifiche della parrocchia, della chiesa, perché può anche essere... tant'è vero che in realtà nella chiesa cattolica sono moltissimi preti che però hanno fatto anche altri, anche lavori professionali di per sé. Certo. Non c'è nessun problema di compatibilità, ecco, certo c'è il problema della compatibilità del tempo, se vogliamo, ma non c'è un problema di principio su quello. Ecco, questo infatti volevo chiederle, perché di primo acchito anch'io quando ho sentito la sua storia mi veniva da chiedere appunto se... evidentemente lo era, visto che lo sta facendo, però appunto da... Diciamo che... Profano. Non sapevo, da profano esatto, non sapevo che fosse... sì, possibile, però più dal punto di vista... Poi immagino, come ha detto lei, che comunque anche il tempo sarà difficile da gestire, immagino, perché più cose si fanno, più è difficile da gestirle, però... Ma sai, diciamo, allora, è chiaro che una persona ha delle priorità, no? Nel senso che ci sono delle cose che vengono al primo posto e altre cose che vengono al secondo posto, ma attualmente tu pensa... cioè non è... la gente... quelli che vanno in chiesa sono pochissimi. Cioè se io, diciamo, dicessi io faccio il prete perché in questo modo mi limito a stare in chiesa, ma penso che sarei... cioè un fallito, insomma, come prete, perché il prete, come tutti i cristiani, però particolarmente deve portare Cristo a tutte le persone, no? Quindi, cioè io sono andato su TikTok perché su TikTok c'è la gente. Certo. E' chiaro che ci sono tutti i giovani del mondo, sono su TikTok, se io sto nella mia parrocchia vedo 20 ragazzini, ragazzini che poi ogni due anni poi scompaiono. Certo. No, ma infatti ho visto anche ultimamente, seguendola su Instagram ultimamente, ho visto anche che ci sono delle scuole, dei licei comunque che la intervistano come facciamo noi, come facciamo, fanno tanti altri, perché ovviamente adesso è facile credere che lei stia cavalcando sempre di più l'onda, che ha avuto questa inerzia iniziale che può raggiungere molte più persone. Certo. Oppure, in realtà, riformulo, tramite alcuni social la visibilità, come diceva lei, è più marcata. Ma dal punto di vista prettamente, cioè lei ovviamente ha un sacco di ragazzini che la seguono, eccetera, ma se lei dovesse dare un messaggio diretto a qualcuno che scegliesse di fare questa come professione, perché questo poi si basa a boomerang, sì, dare degli spunti, ma anche guidare. Quando dici questa professione, qua ne intendi. Esatto, perché lei ha tantissime professioni, però facciamo finta che sia solo prete per adesso. Prete nel senso classico. Esatto. Lei consiglierebbe alle persone di fare una scelta di vita del genere nel 2021? Ma solo che, sai qual è il problema? Il problema del diventare prete è che, diciamo, uno deve anche decidere tante altre cose. Certo. Cioè deve decidere di non sposarsi, per esempio. Cioè, oltretutto nella Chiesa Cattolica, se tu in questo momento dici io voglio fare il prete come professione, non ti fanno diventare prete, ovviamente, perché non vogliono la carriera. Sì, sì, sì. Quindi, cioè in realtà uno non diventa prete perché vuole fare il lavoro del prete. Certo. Diventa prete perché… Se lo sente dentro. Esatto, sì, sì, sì. Beh, e com'è domanda, domanda un po' forse inflazionata, ma è giusto farla, com'è essere prete nel 2021? Guarda, essere prete… Secondo lei, rispetto a periodi, diciamo, ecco, visto che lei ha nominato i social e, come dire, ne fa uso, parlava di Facebook, di TikTok, etc. Allora, essere prete come lo sono io mi soddisfa, diciamo, il vero rischio del prete è quello, oggi come oggi, di starsene nella sua, come si dicono abitualmente, comfort zone. Cioè una persona sta nella sua vita tranquilla, è chiaro che uno può… ha una vita in realtà molto regolare, ha una sorta di stipendio, una sorta di vita così, abbastanza tranquilla e serena. Però certo non è affascinante per nulla una vita così, cioè io non la viverei mai una vita in questo modo. Certo. Ecco, io posso dirti però, per venire incontro alle tematiche di Boomerang, che in realtà a me, come prete, succede di parlare con giovani che non sanno cosa fare con la loro vita, la loro professione, quindi dare consigli che riguardano di curare la propria identità, la propria identità umana e professionale nel modo più vero e profondo possibile, no? Quindi, ecco, per esempio, io ho fatto economia e commercio, adesso alla fine non mi pento perché per certe cose mi ha anche servito. Però certo non era il sogno della mia vita, invece io direi non fate l'errore che ho fatto io, nel senso che invece è molto importante realizzare il sogno della propria vita, perché probabilmente quando uno cerca di realizzare il sogno della propria vita diventa anche il più bravo, non dico al mondo, ma insomma trova anche lavoro se uno sa veramente fare quello a quale crede. Come mai un prete è andato a intervistare uno come Giuseppe Cruciani? Questa è una domanda, secondo me... Perché secondo me Giuseppe Cruciani non c'entra col cristianesimo. No, no, però certe tematiche, secondo me, toccate dalla zanzana, sono molto spinte, no? Sono molto, chiaramente è un format, ma sono molto al limite, diciamo, no? Cioè parlano di sodomia, parlano di... No, ma io ti spiego... Diciamo la morale forse è... Esatto. Allora, diciamo, quando io ho iniziato a fare i libri eccetera eccetera, ad un certo punto, i social e così via, sono nato in una serie di collaborazioni con riviste. Certo. Persone lontane dalla... Come posso dire, da una vita morale. Cioè la domanda che non poteva mai mancare in queste interviste era questa. Cosa pensi di aver sbagliato nella tua vita? Qual è l'errore che non vorresti tornare a fare? Qual è la cosa che ricominciando da zero non torneresti indietro a fare? E, diciamo, tutti scandalizzi tra virgolette di Giuseppe Cucciani, ma in realtà in quelle interviste, io ho intervistato, in quel libro c'è anche un'intervista per esempio a Rocco Siffredi, che da questo punto di vista è un po' peggio di Giuseppe Cucciani. Certo, ci ho letto. Ho anche Trentalance, ho anche Serena Grandi, ho anche Vladimir Luxuria e così via. Per cui in realtà sono tutti personaggi, anche Vittorio Sgarbi, oppure Gianluigi Nuzzi, che dal punto di vista della morale sessuale non ha nessun problema, però viene visto come molto critico rispetto alla Chiesa Cattolica. Per cui, ecco, quindi così è andata la storia, ma perché in realtà il mio denominatore comune di tutti i miei interventi, anche sull'ultimo TikTok è così, è quello del valore del rispetto. Certo. Valore che io non declino parlando, facendo dei pipponi sul rispetto, perché nessuno lo ascolterebbe mai, ma entrando nelle pieghe della vita. Dice, ma cosa c'entra questo con un prete? Secondo me c'entra tantissimo. È sbagliato pensare che i preti debbano parlare soltanto di rosari, messe, oppure di aborto, divorzio, eutanasia, sesso. Questa è una visione, purtroppo, che si è creata nel mondo, forse anche per colpa della Chiesa Cattolica, ma che è assolutamente, come posso dire, limitativa, capito? Sì, certo. Certo, infatti lei come personaggio mi piaceva proprio, personaggio nel senso come, anche dal punto di vista professionale, dalla scrittura alla Chiesa alla ricerca di questi personaggi che uniscono, come diceva, questa non morale, tra virgolette, cattolica, oppure, diciamo, ormai metabolizzata dal pubblico, che incontra, in realtà, delle scene che sono molto più underground, se vogliamo dire, sia dall'utilizzo di TikTok per arrivare ai giovani, che secondo me è un'altra idea geniale. Cioè, usare TikTok per questi scopi, io lo trovo che sia, oltre che a nobile, un ottimo investimento del tempo, cioè, secondo me. Io ho la domanda, un po', allora scendiamo sul tecnicismo del social. I followers che lei adesso, e che, come diceva lei prima, sono un numero importante, li ha, diciamo, raccolti dopo i risultati del suo lavoro giornalistico che l'ha portata in televisione o su testati giornalisti, è importante, o è una cosa a parte? Secondo me, in questo senso, è un mondo dove sei lì e vali per quello che sei. Certo. No, poi penso che può capitare che qualcuno vada anche a leggere, adesso sta capitando, cioè, i passaggi sono questi, TikTok, Instagram. Allora, su Instagram sì che è più facile che le persone poi agganciano con, con magari articoli che scrivo, vado a vedere video, libri miei. Ma no, TikTok è, no, no, è soltanto, sono proprio i video in sé che devi azzeccare a come arrivare. Cioè, diciamo che, possiamo dire che lei è un influencer alla fine, no, anche. Allora, diciamo, da un punto di vista, da un punto di vista dei numeri, lo sono. Esatto. Da un punto di vista... No, no, solo numeri intendevo poi, insomma, sul cosa sia l'essere influencer, potremmo parlarne per ore. Però, quello che è interessante, secondo me, è che, sì, non è, voglio dire, si sentono molte storie di persone che tentano di, no, aumentare il numero di followers. Quindi, diciamo che, nella maggior parte dei casi, il giorno d'oggi, il contenuto interessante deve essere spesso associato a, come posso dire, cose legate al consumismo più, come dire, mainstream, per usare questa parola all'inglese, no? Sì, sì, sì. Se penso ad un prete che dice, bom, inizio a fare una pagina Facebook, inizio a fare TikTok, non è, cioè, magari sbaglio, però immagino che non sia così facile raggiungere popolarità in un mondo, forse, così, diciamo, sì, che guarda ad altre cose. No, è che proprio questa è la cosa interessante, cioè, nel senso che, ovviamente, su TikTok ci sono tanti altri preti, tante altre suore, tanto che se tu fai, come posso dire, la predichetta di 20-30 secondi, o il balletto, così, un po', se vogliamo, anche, non saprei che oggettivo usare, su cose religiose, in ogni caso arrivi soltanto al mondo cattolico. Certo, sì, sì. Che esistono dei preti, cioè, comunque, un prete diventa un interlocutore credibile per delle persone, ecco, magari come persone come voi, che non mi avreste mai, ecco, un prete degli altri, forse voi non avreste mai incontrati, no? Certo. E invece, un prete come me, sì, perché, 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 perché in realtà, uno, io faccio vedere che Cristo c'entra assolutamente con la nostra vita quotidiana, cioè, secondo me, Gesù Cristo, che Cabi, che Cabi non sia, non sia italiano, gli dispiace, perché è un'ingiustizia, ecco, è per capirsi. Secondo me, Gesù interessano un po' questi temi, nel senso che Gesù ama tutti e spera che tutti si amino, anche ugualmente, quindi... No, però gli dispiace, gli dispiace. No, infatti, infatti, chiaro, sì, sì. Diciamo che è chiaro, è chiaro che la sua estrazione da, come dire, da comunicatore, giornalista, è quella che forse le ha dato le chiavi per poter essere più un doganiere, un doganiere della Chiesa, nel senso che ha l'interfaccia con quello che è non Chiesa, giusto? Sfonda la quarta parete, praticamente, va in campi dove la Chiesa non è mai riuscita, mai riuscita, mai avuto, tra virgolette, mai forse, ma non dico la capacità, ma anche vedere come raggiungere i giovani, che poi sono alla fine il futuro, che sono alla fine le persone più da tutelare, anche dal punto di vista religioso, credo. Bravo. Una domanda che mi viene da farle è, secondo lei, un TikTok, un Facebook, un Instagram, possono portare la serietà di un messaggio a livelli più bassi? Cioè, è una domanda provocatoria, perché secondo me... No, no, assolutamente. Allora, TikTok, allora, tutte queste cose sono dei pezzettini di realtà, cioè uno non può pensare che YouTube, Facebook, Instagram esauriscano, per dire il messaggio cristiano, tantomeno TikTok è un annuncio breve, cioè TikTok ti fa pensare, Ah, interessante questa cosa che dice questo prete, la devo approfondire, quindi poi molte persone mi scrivono o hanno i loro mezzi per approfondire e entrare in contatto con la vita cristiana. Guarda questa cosa qua, lo dico, veramente succede. Però la partenza, cioè, è un'accensione, quindi noi dobbiamo sempre, cioè il vero problema dei social, la forza e il problema dei social è che devono essere una tesserina della realtà, cioè non possono essere la realtà. Se il social diventa la realtà, diventi patologico. Invece se tu lo usi come catalizzatore di cose belle della realtà, fantastico. Ho capito. Ma se vuole magari dirci brevemente di cosa parla il libro, l'abbiamo già toccato probabilmente alcuni argomenti. Sì, sì, l'abbiamo già toccato, nel senso che io spiego... Spiego, sì, sì, l'idea di fondo è quella del sottotitolo, usare i social e rimanere liberi, cioè spiego come usare i social, in particolare TikTok, con profitto, quindi da un certo punto di vista avendo anche tanto seguito, però rimanendo liberi, cioè usando la metafora della rete, collegarsi con gli altri, ma non rimanere impigliati come si fa con i pesci, cioè non venire pescati, ma entrare in contatto con le persone e farli diventare un di più per la nostra vita. Beh, certo, stasera ho sganciato delle bombe incredibili. Allora, purtroppo, dobbiamo, penso che sia giunto il momento di salutarci e ringraziarla un sacco per essere stato qui con noi. Veramente. Grazie a voi. Magari domani si può parlare anche di altro, magari facciamo delle altre puntate, se lei se la sente, magari di tornare, in realtà le stagioni dureranno ancora per molto. Beh, in bocca al lupo per tutto. Vedremo. Grazie a voi. Grazie ancora. Grazie. Un abbraccio, ciao. Buona serata. Arrivederci, salve. Arrivederci.